Siamo con l'allenatore dell'Ischia Calcio Enrico Buonocore per commentare il successo della sua squadra, 3-1 in trasferta contro il Trastevere. Una vittoria importante anche in Terra Lazzè, dove soprattutto la vittoria non era mai arrivata. Arriva e l'Ischia ora è seconda in classifica da sola per il Cassino che ha perso, più uno sulla Nocellina, però resta sempre là. Sì, siamo contenti perché dovevamo dare continuità, siamo stati bravi, secondo me il primo tempo abbiamo fatto molto bene, dopo il secondo tempo abbiamo giocato un po' sotto ritmo, però non abbiamo mai rischiato. Dopo dovevamo andare a fare prima il terzo gol perché c'erano le possibilità, però secondo me adesso non sto a Roma, quindi non stiamo a Roma, sicuramente faceva caldo e i primi caldi incominciano a farsi sentire, però nel complesso penso che la squadra abbia fatto una buona partita. Ecco, un'altra prestazione importante, l'Ischia che poteva sbloccarla con il rigore di Talamo, poi la sbloccata con il colpo di testa di Pastore, ecco la difesa di cui parlavamo in conferenza stampa, forte per non far segnare, forte però anche a segnare. Sì, sì, oggi ha fatto gol anche Montanino, quindi sono 16 giocatori che hanno segnato in questa squadra, abbiamo tante soluzioni, oggi si poteva fare il gol subito sul rigore dopo la sbloccata sul calcio d'angolo, Gabriele, siamo contenti, siamo contenti perché sono due anni di lavoro, continui, non ci siamo mai fermati, credo che dall'anno scorso questa squadra ha un livello altissimo, ha continuato ad averlo, al di là dell'inizio dell'anno che abbiamo un po' sofferto il campionato, e abbiamo sofferto anche il fatto che insomma il ritiro abbiamo lavorato poco, non abbiamo fatto amichevoli, la seconda partita l'abbiamo fatta, diciamo, abbiamo fatto una partita con la Nocerini in Coppa Italia e poi siamo andati a giocare Ardea, quindi senza, con poche partite, quindi abbiamo un po' pagato questa situazione qui, però poi dopo la squadra nel complesso è stata sempre continua, siamo contenti, dobbiamo essere orgogliosi di questi ragazzi che hanno fatto veramente un lavoro incredibile, ci mancano due partite, noi proviamo a vincerle tutte e due, e da martedì, adesso da martedì si lavora per la partita di domenica prossima con l'Ostia. Ecco, Ostia in casa, poi Nocerina in trasferta nell'ultima, due anni di lavori importanti, di sacrifici e lo si vede dai tifosi, lo si vede anche oggi con i tifosi giallo-blu che sono andati a Roma per sostenere la squadra, al Mazzile, l'abbiamo sempre detto, un tifo incredibile, ecco, sono i tifosi che rendono ancora più bello, che ripagano questi due anni importanti. Sicuramente il fatto che si sono innamorati di questa squadra proprio per quello che questi ragazzi sono riusciti a fare, dall'anno scorso a quest'anno, ci sono tanti ragazzi di Ischia, e quelli che sono di fuori si sono veramente integrati molto bene, sia nell'isola, sia con questi ragazzi che già stavano l'anno scorso, e quindi è un grande gruppo, cercano di fare sempre il massimo, si allenano quasi sempre bene, e quindi poi dopo i risultati sono continui, noi abbiamo una società importante, abbiamo, adesso io non sto andando lì, ho il mio staff che è forte, e quindi noi abbiamo una grande, dietro tutto questo c'è sempre un lavoro che viene da lontano, e siamo contenti, siamo contenti perché veramente siamo soddisfatti noi, dico squadra così, penso la società sia soddisfattissima, e credo che la gente deve essere orgogliosa di questi ragazzi, che veramente ci danno tutto, e quindi è un piacere vederli giocare, è un piacere insomma, la domenica insomma andare a vedere questi ragazzi.